FUTURA ONLUS FUTURA ONLUS la possibilità di essere valorizzata per ciò che effettivamente dà e per ciò che è un insieme di meraviglie ancora da scoprire e tutte da valutare. Il nostro è un inizio ma non di certo una fine. A tal proposito voglio darvi inoltre l'appuntamento per la nuova manifestazione. Naturalmente ogni nostra attività sarà condivisa insieme a voi perché il nostro intento non è in quello di creare un traguardo finalizzato ad un fine puramente economico ma semplicemente valorizzare e farlo insieme a voi. Perfetto, questa è la prima manifestazione che voi realizzate ed è rivolta appunto a un pubblico molto giovane quindi comunque ai bambini. Ci dobbiamo aspettare anche altre manifestazioni di questo genere e perché l'attenzione viene data proprio ai bambini? Come ho detto prima iniziamo oggi con questa manifestazione che sarà seguita il 6 gennaio da una festa sempre dedicata ai bambini aspettando insieme a loro la Befana. Abbiamo deciso di iniziare con i bambini perché se solo si pensa che ogni grande uomo di oggi lo è solo perché è stato un bambino di ieri se ci immedesimiamo in una tale logica capiamo che bisogna partire proprio dai bambini per creare una comunità migliore che sono parte integrante della società. I bambini, il nostro intento è quello di realizzare di guardare avanti con gli occhi innocenti dei bambini per far sì che anche noi, anche in noi stessi possa venire meno quella sicumera che delle volte ci contraddistingue e che ci rende un po' miseri d'animo. Il nostro intento è appunto non tanto abbiamo progetti non eclatanti vogliamo soltanto guardare al popolo e alla cittadinanza e vogliamo farlo iniziando con i bambini prendendoli per mano, aiutandoli a crescere e crescendo anche noi insieme a loro. Grazie, ricordiamo che la manifestazione è stata organizzata da l'associazione Futura Onlus in collaborazione con Attivamente News.it con Ludolandia Animation Grazie a tutti! Grazie a tutti! La sua visione è stata organizzata a tutti i bambini e che si tratta la sua visione è stata organizzata utilizzano la sua visione è stata organizzata di sottotitoli e l'abinitzatrice